Parlando dell'estetica medievale, bisogna prima chiarire quale fosse la concezione estetica del pensiero medievale, perlomeno a grandi linee. Ora, nella prospettiva del Medioevo cristiano, la creazione del mondo è una liberazione di Dio, cui valore è contingente. Dio aveva anche potuto non creare il mondo, ma dato che l'ha creato, la creazione materiale ha un proprio valore soltanto in relazione a una realtà spirituale e quindi il suo valore è sempre simbolico e allegorico, cioè la bellezza del creato che è fuori discussione perché è stato comunque creato da Dio e la Genesi dice Dio vide che era cosa buona. Rimanda sempre però alla bellezza divina. In particolare il Medioevo riprende dall'antichità il concetto di consonanzia, cioè di proporzione, quindi è bello ciò che è proporzionato, e poi dal neopatonismo eredita il concetto di claritas, cioè di luminosità, per cui la luce è ciò che è ciò che di più bello c'è al mondo perché è un riflesso diretto di Dio. Di conseguenza l'arte di per sé non ha un valore creativo, cioè l'artista in realtà imita Dio come creatore, imita la natura ma non ha valore in quanto tale, quindi l'artista come persona non è importante, è importante il servizio che l'artista rende alla verità. E quindi la poesia ad esempio è considerato un inganno di per sé, perché la poesia è un artifizio retorico, però è posta al servizio della verità, così come le arti plastiche figurative, le quali hanno una funzione allegorica. L'unica arte che ha una propria nobiltà intrinseca è la musica, perché la musica, e qui i medievali riprendono la concezione greca, è la scienza basata su proporzioni, su equazioni matematiche, dell'armonia. A livello filosofico ma anche teologico l'esponente più importante, la patristica, è Sant'Agostino d'Aippona, il quale aveva dedicato un'opera specificamente all'estetica, depulcro et apto, cioè sul bello e l'idoneo, che poi è andata persa, ma in realtà queste riflessioni le troviamo in tutta la sua opera. E questo ci consente di tracciare un'estetica coerente nel pensiero agostiniano. Questa si basa ovviamente sulla distinzione platonica tra il bello sensibile e il bello intelligibile. E infatti per Sant'Agostino la bellezza è in realtà la forma intelligibile, la claritas, cioè ciò che è comprensibile al nostro intelletto che custodisce la verità interiore della cosa, della species. E quindi in questo senso la bellezza reale, quella interiore, quella che possiamo comprendere con la mente, si basa sull'unità come forma di ogni bellezza. Omnis Fulcritudinis Forma in latino, cioè su quel principio interiore che unifica e rende coerente un oggetto. E quindi quelli che erano nel mondo greco il numero e la proporzione, numerus, proporzio in latino, non sono soltanto principi matematici e quindi estetici, ma hanno un valore anche metafisico. Quindi per Sant'Agostino si può parlare di una bellezza oggettiva. Non è bello ciò che piace, ma piace ciò che è bello. E questo ci rimanda al rapporto tra la bellezza della creazione e Dio che ha creato il mondo. Perché effettivamente la creazione è imperfetta dopo il peccato originale e quindi la bellezza con il piacere che ne deriva rappresenta per l'animo umano anche una sorta di fuga, di allontanamento dalla finitezza e dell'imperfezione del mondo. E questo rivela quella che è una vera e propria aspirazione a Dio che è creatore ed è proporzione assoluta, quindi è l'unico ente in cui queste proporzioni sono perfette, da parte dell'animo umano. Tant'è vero che anche la creazione umana, cioè l'arte, segue secondo Sant'Agostino quegli stessi principi della creazione divina. Per cui in entrambi i casi, così come l'artista trascende le opere che realizza, allo stesso modo Dio è un creatore trascendente rispetto al mondo che gli ha creato. E quindi questo discorso, oltre a rilacciarsi al neoplatonismo con l'idea che l'anima ritorni all'uno, consente a Sant'Agostino di lanciare un monito nei confronti delle belle arti, cioè nei confronti del godimento del bello artistico, fino a se stesso. Perché la bellezza, secondo Sant'Agostino, non deve essere goduta in quanto tale, rimanendo fermi alla realtà materiale o anche puramente intellettuale. Ma il godimento del bello deve ricondurre l'anima a Dio, che è il sommo bello e il sommo bene. L'altro grande autore di riferimento è Dionigi l'Ariopagita, o meglio, lo pseudo Dionigi, perché non si tratta davvero del personaggio del primo secolo dopo Cristo contemporaneo di San Paolo, bensì di un autore, probabilmente della Siria del V secolo d.C., che ha lasciato questo Corpus Dionisianum, o Corpus Ariopagiticum, che è un'opera cristiana ma fortemente neoplatonica. E quindi Dionigi l'Ariopagita ha una teologia negativa, per cui Dio non soltanto trascende la sua creazione, ma trascende ogni possibilità di definizione. Noi di Dio possiamo soltanto dire quello che non è. Quindi Dio, per Dionigi l'Ariopagita, è come una fonte di luce che illumina il mondo, che dà forma e colore alle cose. E che tuttavia noi non possiamo contemplare, perché vediamo soltanto tenebra quando svolgiamo il nostro occhio a Dio. E quindi, dal momento che il mondo stesso è un'irradiazione della luce divina, è una manifestazione, teofania, in greco vuol dire manifestazione di Dio, allora vuol dire che gli oggetti materiali, le cose che noi vediamo nel mondo, nella loro bellezza, ci rimandano a Dio, in senso anagogico, cioè conducono l'anima attraverso la loro contemplazione fino a Dio. E quindi, per Dionigi l'Ariopagita, Dio è origine, ma anche fine, di ogni bellezza. Queste concezioni estetiche avranno poi un impatto anche in Occidente, a partire dalla rinascita carolingia, quindi in quella fase del pensiero medievale che si colloca un po' a metà tra la patristica e la scolastica vera e propria. Quindi nella Francia dell'VIII-IX secolo, qui menzioniamo i libri carolini, che vengono redatti alla corte di Carlo Magno per rispondere alla questione delle immagini, ribadendo il fatto che le immagini di per sé non fossero oggetti sacrali, bensì materiali, e che la loro funzione fosse estetica o illustrativa, ma non come oggetto di culto. L'autore più importante in questo contesto è Scott Eriugena, monaco irlandese, il IX secolo che però visse o però sul continente, il quale riprende nella sua concezione del bello e dell'arte, quelle che sono già le posizioni agostiniane e areopagitiche, cioè il mondo per lui è una manifestazione della luce divina che di per sé è inaccessibile e quindi il bello naturale e l'arte umana hanno una funzione sostanzialmente allegorica. Quindi a partire dalla bellezza sensibile del creato si procede alla bellezza intelligibile, cioè quella bellezza che può essere colta con l'intelletto e non con i sensi, fino ad arrivare a Dio. Quindi anche le immagini non naturalistiche, secondo Scott Eriugena, hanno comunque un valore anagogico, quindi anche la bellezza astratta rimanda comunque alla bellezza divina.